I vigili del fuoco ci sono sempre, tra le pietre dei palazzi crollati nel 2009, tra la polvere e le macerie a salvare vite e a dare il massimo al di là del lavoro. Tra le fiamme che minacciavano la città ci sono stati allora il terremoto e gli incendi e ci sono oggi i preziosi alleati dei cittadini in qualsiasi evento. Erano lì anche quando la furia di una macchina impazzita ha spezzato la vita del piccolo Tommaso, veloci, precisi ma sempre delicati e c'erano anche a portare a spalla quella piccola bara bianca. Oggi dopo 13 anni dal terremoto sul monumento Resistere per Esistere dell'artista aquilano Walter Di Carlo che si trova ai giardini di San Bernardino è stata scoperta una targa. Il monumento fu donato dal comando provinciale dei vigili alla città al ricordo di tutte le vittime del sisme a testimonianza dello straordinario impegno dei pompieri in occasione di quella tragedia. Il monumento prima si trovava in piazza Duomo ora è stato spostato in questo giardinetto al ricordo e testimonianza del sacrificio di tanti aquilani e dell'impegno dei vigili del fuoco. Che è importante questo riconoscimento perché ci dà riscontro di tutto l'operato fatto durante il sisma e quindi ci teniamo in particolar modo perché per il legame che ci lega alla cittadinanza dell'Aquila e alle istituzioni che questo rapporto che si è instaurato durante il sisma e che seguita a darci soddisfazione sia a noi che anche alla cittadinanza. Quindi grazie per questo ulteriore riconoscimento e per quest'area dedicata che era importante averla per tutti i vigili del fuoco d'Italia che hanno operato in questa zona.